The sound of love, dai eh! Con sto carciofotto! Spaghetti con carciofi e guanciale. Per primo, famo il brodo per la pasta. Sale, prezzemolo, mentuccia e aglio. Due persone, due fette di guanciale. Lava il pepe prima. C'è uscito? Sentimelo, voglio croccante. Un carciofo per due persone. Senti come fa! Strizzali bene. E ora butti le grassette del guanciale. Aggiungi il brodo. E ora tuffali qua dentro. Usa il brodo per farli sguazzare. Spegni tutto. Aspetta un minuto. Tu dici perché? Ora faccio vedere. Col pecorino deve fioccare. Sta grande la guanciale. Con pezzo di guanciale in carciofo abbiamo fatto. E ora lo faccio.